www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti C'è solo un presidente Un presidente Vi do la prima notizia Che è quella che alcuni invogliano Giuseppe arriva alle 18 Quindi calmi tutti Un presidente C'è solo un presidente La seconda notizia Che adesso facciamo la classifica C'è il GR Se vi chiedo Se vi chiedo l'applauso Fatelo Perché è entrata Non è questo No E vai con la Marchetta E vai con la Marchetta La Marchetta è Dobby Non ti preoccupare La Marchetta è Dobby Ok E l'applauso si sente Ma non dà fastidio Quindi senti che vi Viene di far tutti Va bene E poi ci vediamo Che facciamo anche un passaggio Con Cruciani e Parenzo Dentro poco 17,9 minuti Allora siamo in diretta Anche oggi Adesso vi saluto In piazza Cesare Battisti Tantissimi ragazzi Bravi Dove eravate ieri Che pioveva Ieri no Facile così Allora Sono qui chiaramente Per tutti i programmi Che Radio 24 Sta trasmettendo Adesso chiudo la porta Chiedo al previato Chiudo la porta Sì bravi Però vi avrei voluto Vedere ieri Sotto un diluvio Un diluvio universale Allora veniamo oggi E venerdì Ci sarà anche La poco invidiabile classifica Toccheremo Ok Questa è la parte In breve Delle notizie In breve Della giornata E qui da Trento 349 238 6666 Per sms e whatsapp Andiamo sul meteo Publicità E poi da poco Invidiabile classifica Ci sentiamo fra quattro minuti Mi aprite Notavo una cosa Ascolterete anche la zanzara Ma non c'è una donna Tra di voi Ma lo dico Parisonia 17 e 34 minuti Saluto di nuovo il pubblico Che si sta Ingrossando Non gonfiando Ingrossando Piano Con le birre Vedo Sembra Octoberfest La parte lì in fondo Ragazzi La finale 9 meno un quarto Ecco Chiudo Chiudo per un amico Eccoci qua Allora Torniamo noi E andiamo Alla poco invidiabile classifica Per sms e whatsapp E poi andiamo anche Al primo posto La classifica E poi facciamo appunto Un po' di osmosi Con Parenza e Cruciani A dopo Viva la diga Viva la diga La diga La diga La diga Seba 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 Allora adesso Vi chiederò La stessa forma di prima Quando riprende il programma Aproporto Dimmi Tra mezz'ora Perché risco lo sprint Parisoni alle alle 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 L'apprauto Anche quando riparto il programma E poi La 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 Parisoni Ragazzi ma Le droghe non sono Per così leggere Allora Droghe leggere Ci sono le droghe leggere Noi siamo a favore Portaci 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 a drogarci Portaci I giorni Portaci Portaci A drogarci Portaci 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 vi chiedo lo stesso applauso di prima vi fate una cortesia così entra anche nella diretta nazionale, grazie quello è Roberto Frisani non è Frisani non è Frisani ma no, ma neanche Alessandro bravio che t'ha indicato non riconosciuto Giuseppe! 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 Vete la maglia! Vete! C'è solo un direttore, un direttore, c'è solo un direttore! Grazie! L'organismo a schiena di vita! 18,8 minuti, l'atmosfera si sta a Parenzo, ti devi levare, che qui c'è una diretta in corso. Adesso c'è Barisoli, Parenzo siamo già in onda, grazie! E l'abbiamo fatta anche questa. Andiamo al secondo posto della Poca Invidiabile Classifica. Mi rendo conto che chi non è qua non possa capire la situazione, ma insomma, fra un po' sarà un problema di ordine pubblico. Dicevo, secondo posto della Poca Invidiabile Classifica. Allora, per non mandare traffico due volte, facciamo una bella cosa, dico in regia, che ormai stanno impazzendo dalla folla. Mandiamo la Shrine che ha appena parlato, visto che abbiamo fatto sentire Giorgio Meloni. Per par condicio facciamo sentire anche la segretaria del PD che poco fa è intervenuta qui a Trento. Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire, in Parlamento. Cioè, che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo io a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che il governo intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersene? Così è di Shrine. Adesso vorrei parlare di politica, di collocamento geopolitico e mandate gli ospiti dentro. Prego, gli ospiti di Focus Economia possono accomodarsi. Un po' difficile oggi la gestione del programma. Adesso parleremo di ampi scenari geopolitici e geoeconomici. C'è una res incredibile qua fuori. Si fanno attendere. Nel frattempo vi leggo alcuni messaggi, mentre stanno arrivando i due. Eccoli, eccoli, dai, che iniziamo a parlare di geopolitica seriamente. Eccoli. Allora, per parlare di geopolitica, di Covadis, il pendolo che oscilla del nuovo disordine mondiale, di un mondo che ormai è un eterno presente e non più un vero futuro, tutto quello di cui abbiamo discusso in questi giorni, ringrazio per averci raggiunto qui nei sui Radio 24, David Parenzo, Giuseppe Cruciani. Che onore, che onore. Allora, avete fatto scappare tutti gli ospiti che avevo previsto alle 18 e 20. Io ti chiedo scusa, ma c'è detto esecutivo. No, perché mi hai suggerato anche le balle. Ma io poi non ho capito una cosa bene, non ho ben capito, pur essendo dentro al suolo 24 ore. Cosa minchia vuol dire vice direttore esecutivo? No, vabbè, questa è la prima che dice. Non ho capito, ma voi lo sapete, voi che siete là, lo capite o lo capite? Lo sanno, lo sanno. Non lo sanno, non lo capisco. È esecutivo, vuol dire che è esecutivo. Allora, mi dite la scaletta del vostro programma che teme e fronterete all'interno della logica Covadis. Covadis, il tema è il disordine globale. Esatto. E questa è una dimostrazione del disordine globale. Cioè, gente che non capisce un cazzo di economia, che molesta la trasmissione più autorevole, una delle più autorevoli del palinsetto di Radio 24, e fa scappare gli ospiti. Io chiedo scusa all'azienda. E non c'è una donna, che ho fatto notare prima che non c'è una donna. Vecchi, giovani, tatuati, mezzi rincoglioniti, ubriachi, che agitano il libro Il Mondo, al contrario. Tutto, avete distrutto, hai distrutto il festival. Io che c'entro. È bastata una cosa, un appuntamento di cui... C'è il generale Petreus, c'è Petreus a Trento, andate a sentire Petreus. Io ho una domanda... Via da qua. Ma cosa vuol dire, cartello che non capisco, bagni senza frontiere? Da cosa nasce questo? Lo affronteremo dopo, caro Sebastiano. Non so, tu non credo che voglia trasformare questo luogo di dibattito alto, aulico, in un luogo di dibattito zanzaresco. No. Non possiamo regalare perle zanzaresche a questa codesta trasmissione. No, ma hanno scritto una cosa sulla fresca. Ma che è questa fresca? La fresca sono i soldi, però. Cioè, sono i soldi. Quello però è una cosa... Quella era una cosa economica. Quella è una cosa molto. Infatti affronteremo temi economici importantissimi. Come si balla la fresca, come si spende negati no alla fresca. Beh, no, criminali, adesso non esageriamo. Lorenzo, qual è il tema che è la più interessata di questi dibattiti, di questi giorni, che lei ha seguito attentamente? Ma guardi, so che oggi, direttore, c'è stata questa bella intervista a Schlein, so che tutta la politica nazionale è passata... È passata... È passata da qua! E avete un pubblico leggermente... C'è un pubblico prepolitico. C'è un pubblico prepolitico. Politicamente orientato. Non l'avrei mai detto, pensavo più liberi. Quindi qual è il dibattito con il più ti è entusiasmato? Petreus. Però forse deve ancora esserci. Forse quello, forse deve ancora... Non lo so, no, ho letto il programma, sono arrivato poco fa. Io ho letto l'agenzia, non ho seguito niente, francamente, non ho tempo per seguire niente. Devo organizzare quello che andrà in onda, quello che vedrete tutti, chi si collega sui soldi, eccetera, tra poco. Vedo delle magliette straordinarie che raffigurano la persona più autorevole di questo gruppo in questo momento, che sarà nostro ospite intorno alle 18.45 per darci una sua versione definitiva su una delle più grandi teorie filosofiche contemporanee. Poi la spiegherò bene. Che riguarda il cartello di prima. Sì, che riguarda il cartello di prima, ma riguarda un'attività che noi tutti pratichiamo. Questo è vero, è un'attività che tu, da Petreus, diciamo, a Spatalino, che è l'ultima catena. No, no, è l'ultima. Dottor Cruciani, gli altri ospiti del programma? Beh, gli altri ospiti... Io non li annuncerei prima, perché altrimenti il vice direttore esecutivo giustamente lo fa chiudere. Io ne direi soltanto qualcuno. Io l'ho fatto tenere aperto, se vogliamo rompere le balle su questo. C'è un generale, però. Anche noi abbiamo un generale, questo è vero. Non è Petreus, ma è un generale. Sì, è vero, abbiamo un generale. E non è il generale candidato. No, no, assolutamente. E che generale è? È un generale col quale io ho avuto in passato qualche piccolo scontro. Si chiama Pappalardo. No, Pappalardo. Che purtroppo non è il cantante. Non è purtroppo il cantante. Esatto, questi applausi gli danno l'idea di quali sia il livello culturale. Ripetiamo, intanto devo fare qualche piccolo spoiler. Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato. In generale Antonio Pappalardo. Benissimo. E vari altri ospiti, per non fare altri spoiler. Ci sarà la signora Clizia De Rossi. Nota attivista trans. Nota attivista trans. Attivista adesso, a voi, trans. Attivista trans, molto filo LGBT, come si dice, no? Filo LGBT, molto vicina alla suddetta. Quindi, Pappalardo, Champagne. Attivista. I destini del mondo. I destini del mondo. Perché non potrà mancare un rinalzamento di livello. Va bene. Allora, io vi lascio la direzza. È molto interessante. Grazie per aver organizzato anche questo spoiler, questo lancio del vostro programma. Sì, ma lo dovevamo avendoti rovinato un po' di ospiti. Siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo. E adesso è il momento più bello per me. È un momento quasi mistico. È quando entro dentro lo spazio della zanzara. Appenetro lo spazio della zanzara. Si sfora un po', se puoi piacere. 40 secondi. 40 secondi di sforo. Tacci tua. 40 secondi. No, più vai avanti, meno danni si fanno dopo. Vai pure avanti. Infatti, terrai la linea lentamente finché... Ah, l'ultima domanda. Che ci fa una croce cristiana, penso, fuori in giro? Il quoziente, come dire, la quota del cattolicesimo integralista ci vuole sempre in questa trasmissione. Altrimenti non saremo... Ma assieme o dopo le GBT? Sì, ma già stai sforando di un minuto! Un minuto di sforamento! Un minuto e dieci. Un minuto, dai, su! Guarda che ti scateno tamburini, eh! Scatena in che senso? Perché se scatena è pericoloso. Ringrazio tutti i ragazzi. Ciao ragazzi! Mi lascio la zanzara! Tigre! 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 La visione, anzi, la strategia... Hai perso il filo della tua impresa? Affidati a Gabrielian Partner, professionisti del business che aiutano aziende come la tua a ritrovare la strada per raggiungere i propri obiettivi. Riprendi il filo della tua impresa con Gabrielian Partner. TIGRE! 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 Valdi! Valdi!